Benvenuti a questa edizione speciale del telegiornale, che vi tiene aggiornati in tempo reale sui fatti del giorno. Il nostro governo ha deciso di utilizzare le forze armate per combattere il virus che ha colpito il nostro paese. È stato proclamato lo stato d'emergenza. Ripeto a tutti i cittadini di non uscire di casa. Il governo è stato ufficialmente sciolto. Quello che vi facciamo è un dono. Accettate il nostro nuovo battesimo. Signore e signori, vi ringrazio di essere stati con me fino alla fine. Non so quali saranno le vostre decisioni, ma io non voglio essere battezzato. Non so quali saranno le vostre decisioni, ma io non so quali saranno le vostre decisioni. tutto questo è successo perché abbiamo giocato a crederci dei e abbiamo creato le macchine perché il nostro essere umani era troppo imperfetto e le macchine ora ci distruggono abbiamo creato i virus per distruggere le macchine e loro hanno fatto lo stesso con noi ormai le speranze ci lasciano in pochi ne reggono il peso psicologico da quando l'uomo ha detto basta con la carta non ha fatto che dare inizio alla sua estinzione tutti i nostri dati, le conoscenze, il sapere, tutto ora non è più nostro ora è delle macchine che sia questa la fine del mondo dovevamo aspettarcelo ormai è questione di ore con questa lettera lascio al vento l'ultimo franco bollo di umanità che rimane sulla questa terra è finita oggi ho trovato un uomo Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti